Per il Festival Internazionale della Poesia di Milano, Chiara D'Ambrosio presenta L'inquietudine del fuoco Era il tempo delle illusioni, non vi era grazia, non vi era fermento, vi era solo rabbia Si alimentava, angoscioso, in un costante ritorno dell'uguale Era il tempo degli abbandoni, non dolorosi, non sofferti Ma li sentivo pulsare su pelle, come bruciature tue inflitte Era necessario patire il dolore di una mente su quell'involucro di colpevole Colpevole, continuavo a ripetermi Era tempo di sentirsi sporchi Tradivo la mia persona e tremavo finché il corpo avevo energia Mi cibavo di pulsione, mi abbuffavo di vergogna Pregavo che tutto ciò potesse finire Rimettevo la mia anima e mi lasciavo andare a un disperato bisogno di calore Ma di nuovo infangavo la mia purezza, non c'era dignità in me Nessuno comprese Solo derisone e compianto Per chi non ama se stesso abbastanza Per chi non è abbastanza Loro non si placheranno La legna nel cammino continua a bruciare Il mio inquieto vivere è destinato solo all'ineffabile tocco del fuoco Così i fatti mi toccarono Mi accarezzarono Mi baciarono appassionatamente Così ho scelto di far ardere quella fiamma Così ho scelto di far ardere quel fuoco L'inquietudine di quel fuoco Grazie per l'attenzione Grazie